Ben trovati dal Tg della mobilità, mercoledì 2 giugno, 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, cerimonia all'altare della Patria, la presenza del Presidente Mattarella. Già lunedì con la prova delle celebrazioni previste di vieti di sosta nell'aria e poi dalle 14.30 alle 16 la chiusura di via dei fori imperiali tra Largo Corrado, Ricci e Piazza Venezia nella stessa piazza davanti al monumento, nelle stesse ore deviate 26 linee di bus, poi nella notte tra il 1 e il 2 giugno di vieti di sosta ad ampio raggio in tutta l'area di Piazza Venezia, dalle 16 i mercoledì di nuovo chiusura di via dei fori imperiali tra Largo Corrado, Ricci e Piazza Venezia, dalle 8.30 al termine della cerimonia si aggiungeranno le chiusure dell'area di Piazza Venezia, previsti di nuovo deviazione per le 26 linee di bus, aggiornamenti su romamobilità.it